Coltivare l'amore per la natura per far crescere generazioni più rispettose dell'ambiente. Il maltempo di giorni scorsi ha solo rinviato un appuntamento tradizionale per l'istituto comprensivo Gli Annuzzi di Donna di Andria, quello con la festa dell'albero, una giornata colorata di verde organizzata grazie alla collaborazione dell'istituto agrario e delle associazioni Lega Ambiente e FIDAPA. Protagonisti i piccoli alunni della scuola, tutti riuniti per l'occasione nel giardino del Plesso Aldomoro. E' qui che si sono svolte una serie di attività, traccanti, letture e momenti di riflessione fino al momento più atteso, la messa a dimora di un albero di mandorlo. E' un'iniziativa che ci consente di sensibilizzare gli alunni ad una coscienza ecologica perché piantumare gli alberi è fondamentale a tutela dell'ambiente e quindi quest'oggi in collaborazione con Lega Ambiente, con i docenti dell'istituto agrario, con la FIDAPA abbiamo stipulato, proprio abbiamo creato dei patti di alleanza, un'alleanza ovviamente educativa al fine di valorizzare gli alberi e l'importanza che loro ne hanno. Per cui sono convinta che piantumare un albero vuol dire piantumare una speranza. Una scelta non casuale, quella dell'albero di mandorlo, i cui fiori rappresentano un simbolo naturale di purezza, di speranza e di pace. Ha un significato la piantumazione dell'albero di mandorlo e non un altro perché proprio abbiamo pensato in questo momento, siccome il motto di Lega Ambiente è qualunque cosa facciamo, la dobbiamo fare per un clima di pace, il mandorlo è un albero che ancora più dell'ulivo rappresenta la pace. Perché? Perché ha sicuramente un fiore bianco, simbolo di pace, di purezza eccetera, e un frutto, un frutto che è il mandorlo e che, molti non sanno, ha dei poteri antiossidanti, è un anticancro. Per cui per questo clima di pace, che è un clima di pace e di serenità, il mandorlo ci sta a pennello.